Buongiorno! Nell'anno del centenario vorremmo invitarvi alla Grindtech, primo appuntamento di un anno pieno di eventi. Presso il nostro stand vi aspetta il nostro team, il quale vi illustrerà le nostre centerless della linea Monza e le nostre mole contrapposte della linea V8. Vi aspettiamo al padiglione 2 stand 2146. Grazie per la visione!